Ciao a tutti e grazie per questa opportunità di presentare alcuni nostri lavoro su OCTA. Queste sono le mie discorsioni e una delle discorsioni è che sono un amico di Dr. Filippo Simona. Questo è solo per dire grazie a Dr. Simona per gestire questo meeting e per questa opportunità. Ci sono alcuni amici di questa presentazione. Per sicuramente vedremo la presenza di un flusso indetectabile usando l'OCTA e vedremo anche nuovi algoritmi per analizzare l'immagine di OCTA e discutiamo anche nuovi tipi di visualizzazione di OCTA. Quindi sappiamo che l'OCTA è una estensione funzionali di OCT e con questa tecnologia possiamo visualizzare i retinali e i coroidali. Possiamo visualizzare i retinali perché l'OCTA performa diversi scans nella stessa regione di interesse e finalmente investiga cambiamenti in luminosità che sono a causa della presenza del flusso indetectabile. Perché dell'OCTA siamo potuti vedere il superficiale capillare e questo è un esempio dell'immagine dell'OCTA del superficiale capillare, del capillare capillare, del capillare capillare e delle corocapillari. L'OCTA è stato integrato nel nostro lavoro clinico e dopo un'assistimento inizialmente facciamo un'immagine multimodale per i nostri pazienti che anche include l'OCTA e alla fine della nostra esaminazione facciamo una esaminazione fondos e ovviamente l'assistimento finale è anche dipendente dell'OCTA. voglio mostrarvi un caso clinico questo è un paciente, un paciente femminile che ha compagno di una perdita recentemente visualizzata nel l'occhio direttore e potete vedere che l'assistimento fondos è molto normale per sicuramente abbiamo un paciente miopico Usando la struttura dell'OCT siamo potuti vedere la presenza di questo materiale subretinal hyperreflectivo quindi abbiamo lavorato l'OCTA con il primo dispositivo e non era molto facile capire se c'è una nuova vascularizzazione probabilmente in questa regione con il materiale subretinal con il materiale perflectivo abbiamo trovato qualche flore ma ancora abbiamo bisogno di avere più informazioni quindi abbiamo fatto un secondo scan con un altro dispositivo con un altro dispositivo con questo dispositivo non abbiamo potuto vedere la presenza di un flore potete vedere che in questo caso la qualità di questo scan non è molto buona quindi abbiamo fatto un altro scan con il stesso dispositivo in questo caso può essere più facile per detectare la presenza di flore con il stesso dispositivo con due scambi con il primo esempio abbiamo l'absenza di flore in questo caso con il secondo esempio con un scambio migliore potremmo vedere la presenza di una nuova vascularizzazione questo è per rappresentare l'importanza di avere buoni scambi di qualità in nostra pratica quindi se sospetti la presenza di una nuova vascularizzazione potremmo fare un scambio in modo da avere un scambio molto buon qualità e questo è perché la presenza di un flore indetectabile quindi una delle principali limitazioni dell'Octa è che se il flore ha una velocità che è meno che il flore non possiamo vedere come flore quindi la presenza di un flore quindi bisogna avere scambi di qualità in modo da avere un migliore in modo da poter vedere il flore in alcuni casi vi faccio un paese se avete un'interesse in questo paese in modo da fare una foto in modo da in modo da in modo da usare l'Octa abbiamo provato di pubblicare diversi paesi e in modo da pubblicare i paesi bisogna avere un'Octa in modo da in modo da in modo da investigare la perfusione retina che è nero o nero tutti i pixel che sono nero sono nero tutti i pixel sono nero sono nero se modifichiamo i pixel possono avere una quantità dei pixel bianchi o nero questo è solo per rappresentare l'importanza di avere algoritmi consistenti per investigare la perfusione retina dopo applicare un livello abbiamo una immagine binarizzata che può essere usata per investigare la densità perfusione e potremmo ottenere immagini in modo da investigare la densità in questo paper gli autori dimostrano che le matrici significativamente influenzate da trascolti abbiamo diversi trascolti e questo è più complicato se consideriamo che prima della binarizzazione potremmo usare cambiamenti in modo da modificare la brightness o contrasto quindi è molto complicato in questo paper proviamo a capire se c'è il risultato per binarizzare immagini in pazienti con diabete retinopatia e 15 con controllo e abbiamo binarizzato con sei diversi trascolti con trascolti retinopatia potremmo potremmo usare un trascoltio che era gradato per quantificare la densità retinopatia con di diabetica retinopatia e controllo quando usiamo altri tipi di trascolti con trascolti con trascolti e i due luci chiamavano che il filtre migliore è un esempio di paciente con retinopatia e maculare potremmo la presenza di spim moleculi in intraretinal possono causare la presenza di falsi positivi quindi spim è la presenza di falsi flui che è l'intraretinal fluido in paciente con maculare edema e se non usiamo alcun ajustamento prima della di binarizzazione alla fine abbiamo la selezione di falsi densità altra se usiamo cambiamenti in brightness e contrasto di immagine di falsi in immagine quindi se abbiamo paciente con diabete maculare edema potremmo cambiare la brightness e contrasto in immagine algoritmi per ottenere OCT metri altrimenti potremmo avere risultati completamente diversi in diversi studi parliamo della visualizzazione tridimensionale usiamo una visualizzazione tridimensionale se vediamo un cartone con tridimensionale visualizzazione i caratteri parecchi più reali quindi piace la tridimensionale visualizzazione in nostra vita ma la tridimensionale ha anche usato in immagine e questo tipo di visualizzazione in OCTA questo è un esempio di visualizzazione due dimensionale OCTA in nostra pratica clinica possiamo visualizzare il nostro scan in questo modo è un OCTA vediamo il flore in questo colore e la informazione strutturale è in grayscale possiamo visualizzare informazioni come due dimensionale OCTA non immagini e in questo modo vediamo i superficili e i capillari plexi ma possiamo anche vedere la informazione OCTA usando una tridimensionale visualizzazione che può essere più facile visualizzare tutti i nostri retinal retinal potremmo 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 rotare queste retinal in modo vediamo diverse lezioni di visualizzazione di potremmo un flore trattato un microaneurismo in OCTA due dimensionale B-scan e questo è in due slag e vediamo il superficilio l'immagine capillari capillari plexi quindi potremmo vediamo le microaneurismo in due immagini in due dimensionale visualizzazione è la presenza di vessori vediamo due diverse vessori in l'immagine l'immagine e vediamo l'immagine 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 visualizzazione due dimensionale vessori cross le diverse vessori in una visualizzazione e finalmente una visualizzazione può essere effettuata da errori tridimensionale visualizzazione ha un numero di limitazioni una limitazione più importante è la presenza di progetti che non vediamo bene le progetti in questo slide ma vediamo il video sul destro il numero di progetti che possono ridurare questo tipo di di visualizzazione può essere utile in nostri studi e proviamo visualizzare micro aneurism in patients con diabetica retinopathy questo è un esempio di paciente con diabetica retinopathy è un micro aneurism visualizzato both i Biscano CTA e vediamo che con tre dimensional visualizzazione è molto più 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 per capire la forma del micro aneurismo e anche il numero retino che sono collegati con micro aneurismo e questo può essere utile per capire il numero di retino di micro aneurismo aneurismo in patients con retinopathy sono collegati con due retinal vessels sono del deep vascular complexe e dei micro aneurism hanno una forma saccola che è simile attraverso questi risultati attraverso 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 la visualizzazione tridimensionale per quantificare la profusione di paciente con retinopathy che deve sapere che la profusione della macula in paciente con retinopathy è importante perché è significativamente associato con il risultato in questi pacienti quindi abbiamo binariato due dimensioni e tre dimensioni e finalmente abbiamo ottenuto un nuovo OCTA metri che possono quantificare la macula ischemia in paciente con carotinopathy dopo questo investigiamo paciente con macula edema edema principale limitazione di paciente con macula edema è che possono essere affettati da segmentation che possono significativamente affrontare la macula edema 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 OCTA edema edema solo la metodologia usata ed questi sono i risultati edema i nostri dati dimostrano che metrizi tridimensionali OCTA erano migliori per quantificare la macula ischemia in paciente con macula edema in futuro potremmo usare questa visualizzazione tridimensionali per quantificare la macula ischemia in paciente con retinopatia edema perché della più ripetibilità in assessing macula ischemia di tipo 3 macula neovascular vascular in age related macula degenera è il secondo più tipo di paciente neovascular in patients con AMD è una intraretinal neovascularizzazione originale dal deep vascular complexe e moving toward rp e questo è un esempio di tipo 3 maculare in la retina in rp e sub rp se vediamo questa immagine sembra che abbiamo unico di vascular in rp dimensionale visualizzazione vedete che questo è composto di due diversi retinal vessels di due nuovi vessels che vengono dal deep vascular complexe e al sub rp se usiamo una visualizzazione per caratterizzare un tipo 3 maculare antivascularizzazione potremmo perdere qualche informazione in conclusione OCTA è un ottimo immagine per caratterizzare i nostri pacienti e è parte del nostro lavoro quotidiano ma dovremmo essere attenti nell'interpretazione delle immagini e dovremmo essere consistenti con l'analisi dell'OCTA tra diversi studi e ci sono nuovi tipi di visualizzazione come tridimensionale che possono aggiungere nuova informazione ai nostri retinal vessels se avete domani o commenti potremmo contattare questa presentazione grazie grazie